La pasta con le zucchine alla mente è un piatto che ti conquisterà al primo assaggio Fresca, facilissima da fare, cremosa e buonissima Inizia privando le zucchine delle estremità Poi taglia le rondelle sottili con l'aiuto di una mandolina Trita finemente mezza cipolla o un cipollotto fresco E fai soffriggere in padella con un filo d'olio Comunque se la cipolla non ti piace il soffritto puoi anche ometterlo Aggiungi le zucchine, mischia un po' e condisci con un pizzico di sale e di pepe nero Fai cuocere a fiamma bassa fino a che le zucchine non sono quasi sciolte Nel frattempo prepara la crema Metti il formaggio in una ciotola, aggiungi un po' di latte e lavora con una forchetta Puoi usare il formaggio tipo Philadelphia oppure la Robiola o lo stracchino, ciò che preferisci Metti a cuocere la pasta, trita la mente e aggiungila in padella Aggiungi anche un mestolo d'acqua di cottura per rendere la crema ancora più morbida e fai cuocere per qualche minuto Scola la pasta al dente, saltala col condimento e voilà! Sei pronto per metterti in tavola Questa pasta è facilissima da fare, costa poco e ti fa fare sempre un figurone Perfetta in questa stagione E adesso mi tocca assaggiare Buonissima! Ciao!